Allenandosi sfrecciando fra le acque di Baia Vallugola è diventata campionessa italiana e vice campionessa europea. Ilaria Vanni, 27 anni di Gabice Mare, è la nuova regina della moto d'acqua, un titolo italiano ottenuto a fine settembre al quale è seguito un argento a livello europeo. Finalmente dopo anni di tentativi sono riuscita a vincere il mio primo campionato italiano e sono appunto riuscita a piazzarmi bene anche nel campionato europeo. Sono stati anni tosti perché sono stati molto in salita, dal primo anno in cui ho iniziato a correre nel 2021 dove mi sono piazzata terza, che per me era comunque un sogno perché è il primo anno e poi il campionato è sempre diventato più tosto e le avversarie veramente impegnative e quindi quest'anno essere riuscita ad arrivare in questi due grandi traguardi per me è stato veramente importante. Titolo italiano che è arrivato dopo un percorso a tappe chiuso trionfalmente nelle acque tirreniche di Fiumicino per poi spostarsi in quelle atlantiche del Portogallo per un altro straordinario piazzamento europeo. Ci sono boe bianche che vengono diciamo invierate a destra mentre boe rosse a sinistra e poi si arriva a una parte di circuito in cui c'è una biforcazione dove il pilota può decidere se appunto prendere una strada o meno, di solito sono strade equivalenti. Alla fine di queste due strade ci si rincontra e diciamo che possono avvenire lì i sorpassi, quindi la gara dura un quarto d'ora, diciamo nel mio caso nella runabout femminile, più un giro e quindi si basa diciamo sulla resistenza anche fisica, sulla capacità di guida, sull'esperienza. Un'attività agonistica che nasce dalla passione per il mare ma non solo. Sono sempre stata un'appassionata del mare e mio babbo anche, ho preso la patente nautica anni fa, da lì mi sono fissata che io volevo provare questa moto d'acqua. E un giorno quando ero al mare davanti alla mia spaggia c'era un evento dove un pilota, tra l'altro faccio nome e cognome Manuel Reggiani, campione, portava in moto d'acqua questi ragazzi, ragazzi disabili, quindi gli faceva fare un giro, un'esperienza diciamo indimenticabile, facevano questo evento di mototerapia. Mi sono avvicinata e gli ho chiesto se un giorno avessi potuto diciamo fare un giro perché la volevo provare a tutti i costi e nei giorni successivi ci siamo accordati. Mi ha fatto provare la sua moto, da lì non sono più scesa, non sono più scesa e ho iniziato ad allenarmi con lui che tra l'altro campione italiano quattro volte, campione mondiale l'anno scorso e ho affrontato il mio primo campionato italiano nel 2021 e siamo qua. Ci alleniamo tutto l'anno praticamente e anche con il freddo ci alleniamo in mare e chiaramente c'è una preparazione fisica dietro che va dalla palestra a tutto quello che comunque ci consente di riuscire a essere performanti sulla moto d'acqua. Io personalmente vengo dall'atletica quindi è uno sport che mi ha vantaggiato tanto e quindi niente c'è tanto lavoro fisico ma soprattutto anche mentale perché la testa fa veramente la differenza in gara, una partenza sbagliata o comunque sia non essere lucidi, sbagliare una boa, hai buttato una gara perché sei praticamente ultimo se sbagli una boa.